Ciao, sono Elia, vengo da Udine, sono un breaker, ballo con i Yesai Squad, ho iniziato a ballare con i Fit4Fung nel 2006. Non mi definisco solo un breaker, mi piace anche ballare hip hop, anche altri breaker non mi definiscono un breaker, quindi non si capisce bene cosa faccio, però mi piace fare quel che faccio. Questa cosa dell'autogiudicarsi del The Jungle è una cosa che mi stimola, voglio vedere un attimo cosa ne pensano gli altri ballerini, per una volta, proprio quelli che partecipano, cosa pensano di quelli che ballano, non come al solito che c'è una giuria a giudicare, vediamo come va. Sono orgoglioso, anche onesto allo stesso tempo. Se qualcuno dice che ha vinto quando secondo me ho vinto io, io dirò che ho vinto io e poi è finita lì. A botte non si fa, anche perché penso che a botte io le perdo tutte. Durante un battle mi fa incazzare quando fanno più gesti che top rock. Se balli e l'altro sta lì a farti i gesti, non vai a tempo, hai scopiato, hai fatto, caduto, hai visto, mia mamma, ecco, lì è un po' fastidioso. Quindi balla, poi vediamo, in caso me le dici dopo, però intanto balliamo. Giaio che è un cario armato, quando balla mi piacerebbe sfidarlo per vedere come va, perché è fra gli invitati e quello che mi piace di più per la potenza che ha mentre balla. Ci vediamo al The Jungle il 4 maggio, spero di divertirmi, che vi divertiate, spero di fare delle belle sfide accese e spero che faccia più caldo di oggi. Oggi fa freddo. Bambina 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 Sì, sì, sì.